Buonasera a tutti dagli studi di Rossini TV, siamo qui questa sera per parlare di una grande opportunità professionale legata all'ambiente. L'ambiente è il leitmotiv dei nostri tempi, del nostro tempo. Vediamo tutti i giorni quello che significa rispettare l'ambiente, quanto è importante avere proprio un occhio di riguardo per il mondo che ci circonda. E per parlare di questo siamo qui questa sera con Roberta Giardini, che è responsabile della Direzione Generale e Coordinamento del Centro Formazione e Orientamento della Cooperativa Sociale Labirinto di Pesaro. Buonasera a tutti. Poi abbiamo Aldo Cucchiarini, detto Loris, che è un amministratore della cooperativa Le Macine Terre Alte. Buonasera a tutti. E infine Chiara Buiarelli, anche lei lavora la cooperativa Le Macine Terre Alte ed è con noi. Buonasera a tutti. Allora, quindi ambiente, opportunità, cooperativa Labirinto, tante cose che si fondono insieme. Cominciamo subito con Roberta Giardini. Capiamo esattamente di cosa parliamo questa sera. Il Centro di Formazione e Orientamento è un servizio della cooperativa Labirinto. Noi siamo accreditati da circa 15 anni con la Regione Marche per la formazione. Siamo anche provider ICM, quindi organizziamo e gestiamo corsi per il personale sanitario, oltre a organizzare anche ogni anno corsi di aggiornamento e di formazione per il nostro personale. È una cooperativa molto grande, quindi diciamo che è una fetta del nostro lavoro abbastanza ampia. Il nostro lavoro è, diciamo, che consiste soprattutto, oltre che gestire i corsi, anche di fare un'analisi di fabbisogni formativi adeguato al mondo del lavoro. Non lo facciamo da soli, lo facciamo insieme alla Regione, al Centro per l'impiego e ad altri enti di formazione della Regione Marche. Diciamo che è un lavoro in rete, ma è come in questo periodo c'è bisogno di dare delle risposte adeguate, perché poi le persone che si iscrivono ai corsi hanno delle grandi aspettative, cercano lavoro. Quindi, fino a qualche anno fa avevamo come allievi neodiplomati, neolaureati, adesso abbiamo queste persone qua, ma abbiamo tantissime persone che hanno perso il lavoro, quindi che si rimettono in gioco. E a una certa età rimettersi in gioco non è facile, lo fanno anche con corsi abbastanza lunghi, perché vogliono poi avere delle risposte adeguate e quindi riuscire a inserirsi e reinserirsi nel mondo del lavoro. Diciamo che la nostra specializzazione è in ambito socio, educativo e sanitario. Da qualche anno, però, grazie a una proposta della Regione Marche che ci ha affidato un corso per accompagnatore ciclo turistico, devo dire la verità, all'inizio ci siamo trovati un po' spiazzati, abbiamo gestito questo corso che ci ha portato veramente a fare cose diverse, quindi a trovare docenti diversi, a trovare... Ad allargare la visione proprio, a vedere proprio nuove vie. Esatto, anche una domanda, noi siamo una cooperativa sociale, cosa c'entra? In realtà c'entra tutto, quando si lavora con altre persone e per altre persone. Quindi è stato un corso veramente molto, molto interessante che ci ha portato a conoscere persone nuove e ci ha portato nella natura. Quello che andiamo a presentare questa sera è un corso alla quale ci teniamo tantissimo. Io credo che la natura... Io vengo da un mondo scout di tantissimi anni, quindi sono ex scout e so benissimo cosa significa vivere la natura. Anche perché hai detto ex scout, ma in realtà non si è mai ex scout. Beh, mi hai rubato le parole. Allora, infatti dicevo, chi ha fatto lo scout per tanti anni continua ad esserlo nella vita e nel cuore per tutta la vita. Per cui io credo veramente che la natura ci fa star bene, ma ci educa tantissimo. Per cui è un corso che non è finanziato dalla Regione Marche. Ecco, intanto definiamolo, perché fra le tante cose non abbiamo detto che si tratta di un corso destinato a creare una figura come guida naturalistica o ambientale escursionistica. Esatto, esatto. Allora, questa diciamo che molto spesso si pensa a una figura di questo genere come come la voglia solamente di una passione di andare in mezzo alla natura. Questa passione può diventare attraverso questi corsi una professione, per cui fare una professione veramente di questo genere penso che possa essere veramente un coronamento anche di un sogno spesso. Questo però è un corso appunto che è un FSE, non finanziato dalla Regione, ma autorizzato. Quindi è una qualifica professionale riconosciuta, che è nel repertorio delle qualifiche nazionali. Quindi è veramente una professione, potrebbe essere veramente una professione reale. E infatti Aldo Cucchiarini, che è un amministratore appunto della cooperativa Le Macine Terre Alte, sicuramente ci può dire qualcosa di specifico su quelli che sono i contenuti del corso, anche perché la cooperativa sarà un teatro poi in realtà dove il corso anche verrà attuato, perché lì si svolgerà lo stage pratico. Sì, dunque il taglio che intendiamo dare al corso è un taglio, si potrebbe definire vintage impropriamente. Vorremmo un po' tornare alle origini. Adesso ce ne sono molte di guide nominalmente patentate. Detto anche che il vintage va molto di moda. Sì, bisogna vedere come uno lo intende, insomma. Però vorremmo un po' tornare alle origini. La Macina si è sempre occupata, fin dalla nascita, dai primi anni Ottanta, si è sempre occupata di educazione ambientale, quindi della gestione dei centri di educazione ambientale, che sono un'istituzione nazionale, ma diciamo come istituzione alla propria testa nelle varie regioni. La nostra regione inizialmente li ha finanziati, poi c'è stato negli ultimi lustri un progressivo disimpegno praticamente totale. Ora speriamo che le cose riprendano, però la nostra mission, come si usa a dire adesso, è un po' l'educazione ambientale e la divulgazione. Noi per guida intendiamo una persona, appunto una guida ambientale oscursionistica o naturalistica, che sia in grado non soltanto di conoscere l'uso della carta o della bossola, che questi dovrebbero essere elementi implicitamente acquisiti nella professione, dei quali neppure stare a parlare. Anche se appunto dicendo questa ci fai capire quanto è importante non dare nulla per scontato, perché in realtà non sembra una cosa, si dovrebbe sapere una determinata cosa, ma non è mai così. Non è mai così, infatti approfondiremo, verranno approfonditi tutti gli elementi, ma io ritengo che il cuore di questa professione sia quello di essere in grado di interloquire con il prossimo e di divulgare e di fare appunto attività educativa, perché di questo c'è bisogno, ora più che mai c'era bisogno un tempo, adesso ce n'è più bisogno di prima. Quindi la nostra mission è questa qua. Pensiamo di dare questa impronta al corso e faremo in modo che sia un corso molto impegnativo. Riguardo al discorso del lavoro... Ovviamente è molto impegnativo e anche molto stimolante. È anche molto stimolante, certamente. Una cosa è implicita nell'altra, dal mio punto di vista, ma hai fatto bene a esplicitarlo. Molto impegnativa perché noi vorremmo che da questo corso uscissero fuori dei professionisti, di cui fare anche uso come azienda. Non siamo poi molti, ossia siamo molti nominalmente, ma non siamo molti poi nella pratica. Anche perché Aldo hai detto una cosa importante, professionisti, sappiamo che quando si usa la parola professionisti, in realtà non è solo riferito all'ambito al quale ci stiamo riferendo. Il professionista è a 360 gradi, quindi acquisisce delle competenze, delle capacità, o magari ce le ha, e le mette a disposizione del sistema sempre. È così. È così. È così. Noi vorremmo trarre questo dal corso dei professionisti, con una notevole capacità di interpretazione degli ecosistemi, dei paesaggi, dell'ambiente, e con una notevole capacità anche di trasferirla agli altri. Quindi occorre empatia. Questa purtroppo è difficile da creare in un corso. L'empatia è una cosa, non voglio dire che non si possa acquisire, però in molti casi... Tendenzialmente innata. Tendenzialmente innata, sì. Aldo, oppure io continuo a chiamarti anche Loris, perché mi piace questo doppio nome, ma... Va bene Aldo. Va bene Aldo. Perché hai parlato di corso Vintage? Vintage perché appunto gli daremo un'impostazione iniziale, quando... Io sono uno dei fondatori dell'Associazione Guide Ambientali Escursionistiche, la cui definizione si rifece soprattutto al marketing, suonava bene GAE. Comunque è stata di guida naturalistica in sostanza. Vintage perché mi rifaccio all'inizio, all'inizio proprio, quando fondammo l'associazione nel 91. a quelle che erano le nostre intenzioni, di quelli dell'EGAE, ma anche delle guide in generale, una professione che ci siamo inventati. All'inizio ci ridevano anche dietro, sembrava impossibile che potesse esistere una professione di questo tipo, e poi dopo hanno smesso di ridere. Vintage anche nel senso letterale del termine, gli docenti saranno più o meno persone della mia età, o anche di più. Giovanissime. Giovanissime, dei bambini. Saranno dei bambini che cercheranno di insegnare a dei poppanti la professione. Una ricerca che abbiamo fatto con cura, insomma cerchiamo proprio di tornare alle origini e di coinvolgere le persone che riteniamo più profondamente professioniste, se mi passate il termine. Sì, anche perché abbiamo l'esperienza pratica, quella di Chiara Bujarelli, che in realtà è proprio l'incarnazione di quello che stava dicendo Aldo o Loris, a seconda di come vogliamo chiamarlo. Ecco, quindi, in realtà, Chiara, tu hai fatto il corso cui si riferiva prima Roberta, quello, il primo corso organizzato dalla cooperativa Labirinto sulla escursione cicloturistica, una cosa mi pare di aver capito, come questa. cosa ci riporti di quell'esperienza? Perché poi in realtà tu hai acquisito quelle capacità. Sì, io mi trovavo disoccupata, quindi avevo lavorato per vent'anni nel settore socioeducativo, poi non era più il mio posto e quindi volevo rivedere un po' se ero capace di fare altro e come diceva prima Roberta, insomma, in un'età vintage, che anche io ho, non è semplice rimettersi in gioco, però si parte appunto dalle proprie passioni. Anche perché è vero che non è semplice rimettersi in gioco, ma io, fatevelo dire, non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco. Abbiamo sempre l'opportunità di poterlo fare. Sì, io, appassionata di biciclette, di viaggio in bicicletta, ho visto questo corso, mi ci sono iscritta. Il vantaggio di frequentare questi corsi, al di là che io conoscevo il centro di formazione e orientamento già da tanti anni e mi ero affidata per la formazione a loro, quindi mi sono riaffidata e rifidata, questo è stato sicuramente un vantaggio per me, comunque era il fatto di unire la passione delle competenze, come diceva prima Aldo. Non è così scontato, è interessante vedere quali sono le materie che ci sono, no, proposte a livello formativo in questo corso, ma è interessante proprio andare lì con una certa curiosità e lasciare che le cose si facciano un po' da sole, perché comunque poi le materie fra di loro sono ovviamente interconnesse e si aprono veramente delle porte, non è un approdo questo, è proprio un trampolino di lancio se vogliamo, per cui è proprio un reinizio in questo senso. Certo, considerate che non più tardi di qualche giorno fa un tennista italiano che ha perso la finale di Wimbledon ha detto questo è il mio punto di partenza. Esatto, grande Berettini, tanto per dire. Roberta, vogliamo entrare un attimo un po' nei contenuti, ma più che nei contenuti, proprio nella pratica del corso. Quindi io sono deciso, sono curioso, voglio partecipare a questo corso, come faccio, a chi mi rivolgo, quali passi svolgo? Allora, chi legge il bando, chi ascolta questa trasmissione, magari ecco, gli si alcendono la lampadina e ci sono i riferimenti qui sul bando oppure sul nostro sito della cooperativa. Quindi contatta direttamente o a me oppure il centro di formazione per chiedere più che altro qual è l'organizzazione, come si svolge il corso, dove si svolge il corso. È importante sapere che ci sarà una parte teorica ma anche una parte pratica piuttosto sostanziosa. Un corso di questo genere, oltre allo stage, che è importante perché poi andranno a sperimentare proprio in azienda, quindi per esempio la macina. Quindi si sperimenterà proprio in una professione ma anche durante la teoria. La teoria sarà una parte teorica quindi in aula ma una parte di ore sarà proprio pratica. Quindi andranno subito a sperimentarsi in mezzo alla natura, in mezzo ai percorsi, faranno le prime escursioni. Per cui questa è una cosa veramente importante. In tutti i corsi la parte pratica è importante perché poi in alcuni casi capita, adesso non in tutti, però capita che chi partecipa, un allievo dice oddio, non è proprio il mio mestiere. Perché quando si fa la parte pratica ci si mette veramente in gioco fisicamente, mentalmente. Per cui ecco, questo ci tengo a dirlo. Comunque se qualcuno ha anche delle domande più specifiche sul tipo di professione, qual è il target delle persone che parteciperanno alle nostre escursioni, io rimanderò poi direttamente ai docenti del corso. Sicuramente ci sarà Aldo, ci sarà Stefano Marzani che è un altro nostro docente referente. Quindi ecco, sicuramente prima di scriversi potranno chiedere tutto quello di cui hanno necessità prima di prendere la decisione. Quindi fare riferimento al sito della cooperativa Labirinto o un numero di telefono, qualcosa di specifico che lo vogliamo dare? Vogliamo dire dove andare a trovare il bando? Allora, il bando è www.labirinto.coop quindi è il sito della cooperativa. Il numero di telefono del centro di formazione è 0721-26691 oppure direttamente a me, al mio indirizzo mail che è r.giardini-labirinto.coop con due o. Perfetto. Aldo, chiaramente questo è un corso che è stato detto offre anche delle possibilità e veramente delle opportunità professionali di lavoro per chi per tanti motivi vuole rimettersi in gioco oppure semplicemente seguire una sua passione. È un momento nel quale ci abbiamo un po' scherzato l'ambiente e la natura sono davvero al centro dell'attenzione. Le opportunità sono tante anche perché il nostro territorio ne offre tantissime, ne offre veramente tante. Noi guardiamo continuamente sui social foto, filmati che arrivano dal nostro territorio dalle nostre cascate, dai nostri fiumi, dalle montagne. Quindi davvero c'è un'attenzione particolarmente forte sull'ambiente. Sì, in questi anni il turismo nel nostro territorio è cresciuto parecchio, non soltanto nel nostro territorio è cresciuto il turismo diciamo sull'Appennino il turismo escursionistico ed è una cosa tangibile, si nota insomma come dicevi tu, non si può non notare. Va anche di moda, c'è da dire anche questo e quindi bisogna andare oltre le mode da avere lo sguardo lungo. In poche parole c'è bisogno di qualcuno che ce la fa davvero apprezzare questa natura. Sì, direi di sì. La natura è fruibile da chiunque e poi lo sarà sempre di più perché le reti sentieristiche sono sempre più ben tenute, meglio attrezzate eccetera. Quindi è giusto che sia così, che chiunque possa fruillare in piena libertà. Con la guida c'è una marcia in più nel senso che si attraversa un territorio e alla fine diventa un'esperienza culturale oltre che emozionale. Deve essere una cosa da cui uno esce arricchito. Vorrei fare un passo indietro senza essere tacciato di pessimismo cosmico ma insomma c'è questa attenzione per... No, anche perché non ci riuscirai. Allora mi limiterò al pessimismo contingente. Si parla molto di ambiente. Siamo in piena crisi climatica conclamata e galoppante. Siamo semireduci da una crisi epidemica eppure non si vede una mobilitazione ad alti livelli governativi di scienziati, climatologi, biologi eccetera. Chi si occupa di queste cose è pur sempre un economista, un banchiere, un bancario. Comunque non si vede questa mobilitazione che invece sarebbe necessaria né mi pare di intuire questa gran mobilitazione di risorse. Mi sembra che siamo sempre sul solco classico di un divenire classico che l'ambiente sostanzialmente si disinteressa. Poi bisogna guardare i fatti. E come si diceva prima, anche questo viene dato per scontato. Quando così non è? Quando così non è. Bisogna essere un po' attenti e vedere quello che poi succede nella realtà. Tornando a noi, vorrei dire questo, che il lavoro di guida non è un lavoro pur che sia. È sicuramente un'occasione per mettersi o per rimettersi in gioco. Però non basta dire voglio fare questo lavoro. È necessaria molta passione. È una passione tale che non ti fa percepire le difficoltà. Può capitare di essere in qualche brumosa foresta sotto la pioggia scrosciante sabato sera alle 8 col fango fino al collo. Può non essere piacevole ma può succedere. Può far parte del lavoro anche questo. Naturalmente una certa situazione cerca di evitarle ma ci si può trovare. E magari si possono evitare o si possono affrontare meglio proprio perché sei in compagnia di una guida. Si possono affrontare e magari essere... Esatto. Come dicevi tu. Tuttavia, ecco, quello che voglio sottolineare è che è necessaria una passione più che modesta. Diciamo una passione non voglio dire smisurata ma ci vuole molta passione altrimenti è un lavoro che non si può consigliare. Non è come un... Senza nulla togliere le poste. Non è come il posto fisso alle poste. È una cosa diversa. Occorre appunto una motivazione interiore molto forte. Certo. Allora, la motivazione interiore è importantissima. La passione, permettetemi, è il motore della vita. È quello che ci fa fare le cose e non ci fa accorgere che le facciamo perché in realtà ci piace talmente farle che non ce ne accorgiamo. E credo che anche in questo caso per chi poi veramente si occuperà della questione di chi avrà l'opportunità di poter fare la guida perché ci crede, perché appassionato, secondo me potrebbe essere una delle cose più belle della vita. oltretutto, Chiara, tu hai appunto l'esperienza pratica di aver fatto il primo corso e quindi ti sei anche resa conto di come si acquisiscono delle competenze, le abbiamo definite prima, trasversali, fondamentali che non sono solo relative a quel momento di formazione ma poi si portano in tutta la vita. Sì, ci sono già competenze trasversali che sono all'interno del corso che magari hanno anche un tot di ore minore rispetto ad altre che ovviamente come dire, uno direbbe più importanti. Però quello che credo che possa rimandare certi corsi per lo meno quello che avevo fatto io credo questo e poi quello che ho visto anche lavorando per la marcia nelle terre alte è che non si è solo accompagnatore di cicloturismo o solo guide naturalistiche ma si è proprio un soggetto culturale. Ok? E quindi nel momento in cui anche ci si approccia con un turista è un po' anche quello che dice Valdo non è solo lo spiegare che cosa stanno vedendo cosa stanno ammirando ma è proprio essere dei facilitatori per l'identità di quel luogo che quindi ha proprio un'identità storica a quel luogo essere dei mediatori fra il turista e il residente cosa che non è scontato perché ovviamente tu porti delle persone e c'è un turismo per dire responsabile sostenibile che va comunque portato avanti ma questo al di là delle belle parole ha dei concetti dietro e questo tramite il corso e tramite altro poi si può approfondire e poi c'è tutto l'aspetto relazionale che come centro di formazione e orientamento curano da diversi anni che è quello del rapporto con l'utenza con praticamente il turista che è proprio un patto che si fa col turista in sé dove io ti porto ti accompagno ma tu da un'altra parte mi accogli questo accompagnare mi devi seguire mi devi seguire adesso si parla molto di turismo esperenziale ma il turismo esperenziale senza una capacità e un tempo di apprendimento diventa un'esperienza povera misera in sé e quindi per cui l'idea è quella anche un po' che il turista arriva in un modo ma parte in un altro si spera anche che sia in modo migliorativo ok quindi di un cambiamento tramite il territorio tramite il tuo messaggio che vuoi portare certo perché anche dal nostro punto di vista cioè magari di chi potrà usufruire della possibilità di fare un'escursione con una guida c'è questo aspetto imparare qualcosa ed uscirne meglio una volta finita questa escursione Aldo in realtà abbiamo detto tante cose ma il vero cuore pulsante del corso che andrà in essere a breve organizzato dalla cooperativa Labirinto è proprio un approccio anche molto fisico molto perché tanto per fare la guida bisogna avere anche un fisico per poter fare la guida non dico un fisico bestiale ma quasi basta essere un po' mantenersi in forma ad essere in forma insomma essere in grado di svolgere diverse attività perché poi tutta la componente culturale di cui abbiamo parlato fino ad ora è veicolata sostanzialmente da un'attività sportiva in una semplice escursione comunque si cammina e noi cerchiamo normalmente di organizzare attività che vadano bene per le famiglie quindi fruibili da chiunque anzi le facciamo anche per disabili aspetto importantissimo e fondamentale lasciatecelo sottolineare perché dovrebbe essere sempre così assolutamente sì nessuno deve essere lasciato indietro nessuno nei limiti del possibile e le facciamo anche per disabili anche per non vedenti ad esempio l'abbiamo già fatto in passato Aldo hai parlato di non vedenti ma è importantissimo sottolineare che la natura si ascolta i rumori sono tantissimi anche chi purtroppo non ha la fortuna che abbiamo tutti e della quale magari non ci rendiamo neanche conto di poter vedere i colori della vita ma può veramente ascoltarne i rumori e apprezzarla a quanto meno come noi assolutamente sì anzi adesso esistono nei parchi nazionali per esempio ma anche nelle riserve naturali di varia natura dei sentieri predisposti per la disabilità compresi non vedenti che sono relativamente fruiti è una questione percentuale di numeri insomma però è una cosa molto civile che ci siano e tra l'altro in alcune zone sono tenuti anche molto bene quindi fruibili sempre è un aspetto importante questo da dire che fa onore comunque alla nostra civiltà alla nostra proprio dovere sociale perché in Italia questa cultura sta adesso partendo ma chi è abituato anche a vedere l'estero sa benissimo che all'estero la disabilità è come se non esistesse in tante occasioni mentre da noi è un concetto che adesso finalmente viene affrontato e viene anche superato sì potrebbe essere un punto d'orgoglio anche se il termine orgoglio andrebbe sempre dosato è un termine molto impegnativo beh sai da chi ha parlato di pessimismo cosmico poi venuto dalla regione di Giacomo Leopardi che è il vero pessimista cosmico Aldo comunque sì diciamo con la disabilità si può operare con diversi vettori chiamiamoli così l'educazione ambientale noi la facciamo non soltanto camminando in natura dicevo sono escursioni per famiglie eccetera ma facciamo anche escursioni più performanti a richiesta anche di quelle che ti sfiniscono o che sono in grado di ammazzare un bue basta chiederlo tutto si fa ma tendenzialmente il nostro target sono appunto persone normali anche persone che per la prima volta mettono piede in un bosco quindi si cerca sempre di misurare bene l'attività fisica nonostante questo la gamma per cui noi intenderemmo preparare i neoprofessionisti che dovranno uscire da questo corso ne parlavamo appunto con Roberta questi professionisti dovrebbero avere la capacità di mettere a prova la loro fisicità perché non esistono soltanto le gambe ma si può andare in canoa ad esempio e lo facciamo nelle occasioni che il territorio ci consente non sono molte nel nostro territorio ma ci sono penso al lago di Mercatale o al fiume Candigliano o anche al Metauro peraltro tutti i luoghi hai nominato dei luoghi meravigliosi che sono agli occhi continui sotto gli occhi continui delle cronache turistiche della nostra provincia perché nei detti tre sicuramente non a caso che sono davvero belli sì sono quelli dove tre anni fa abbiamo iniziato a fare questa attività di educazione ambientale quindi praticamente c'è il questo il vettore il veicolo fisico che richiede appunto fisicità e che però ti permette di fare un'esperienza culturale sono cose messe insieme detta così sembra un incastro di complicazioni in realtà è tutto molto fluido e la guida deve rendere una cosa molto fluida una passeggiata tra amici divertente fisicamente impegnativa senza esagerare e che comunque ti lascia qualcosa dentro qualcosa che tu ricordi e che ti permette di interpretare meglio gli ambienti che hai attraversato poi ci sono le biciclette la Chiara in questo avrebbe qualcosa da dire ci sono le biciclette che stanno andando increscendo poi adesso ci sono le nuove biciclette elettriche che comunque è un'attività fisica perché comunque si pedala però ti permettono di andare un po' ovunque meglio farlo con la guida in questo caso perché la bicicletta elettrica ha permesso negli ultimi anni di andare a tutti dappertutto poi però ci sono le discese per esempio bravissimo proprio stavo per intervenire su questo ho degli amici che con la bicicletta elettrica ha pedalato assistito e si sono andati su per i monti poi nel momento in cui sono dovuti scendere sono scesi nel vero senso della parola rugoloni è così il soccorso alpino giorni fa parlavo con uno del soccorso alpino di Forlì mi diceva che sono aumentati molto gli interventi a carico di ciclisti infortunati in discesa perché chiaramente non hai la padronanza del mezzo quindi sono comunque cose da prendere con prudenza e oltre a queste due attività insomma che usiamo anche a volte i raft cioè i gommoni quando il fiume i nostri fiumi lo permettono i nostri sono fiumi a carattere equinoziale non sono alpini non sono mediterranei quindi abbiamo due stagioni non sono le migliori autunno e primavera in acqua la gente ci va quando è caldo però questo questo noi abbiamo abbiamo usato i raft e adesso ci siamo ci siamo forniti di canoe canoe moderne libere non kayak molto facili da guidare vanno dritte da sole senza doversi sforzare di tenere la barra che è la cosa più difficile l'importante è che vanno dritte da sole con rivolte verso l'alto rivolte verso l'alto la forza motrice la mette chi ci sta sopra ovviamente doppie singole eccetera e poi ci sono anche altre esperienze che possono essere fatte per esempio le esperienze uso le virgolette speleologiche nel senso che noi non intendiamo formare degli speleologi quella è un'altra cosa però delle guide che siano in grado di approcciarsi a una caverna semplice senza la necessità di inserirsi in stretti budelli ma che comunque consenta di vivere un'esperienza speleologica semplice in sicurezza ovviamente e quindi le guide devono essere anche in grado oltre che di conoscere le caverne sicure dove non occorre lo speleologo che è un passaggio ulteriore e se poi la guida è anche speleologo tanto meglio però ecco di conoscerle e soprattutto di saperne descrivere l'ambiente e di approcciarsi con le giuste cautele perché sono ambienti molto delicati su questo intendo intendo sottolineare il grande rispetto che deve avere la guida nell'approcciarsi agli ambienti a volte sono ambienti delicati deve sapere come e quando andarci andare in un'aria umida in un certo periodo è privo sostanzialmente di impatto andare nello stesso posto magari un mese dopo può avere un impatto notevole perché magari ci sono animali nidificanti che noi andiamo a disturbare e quindi provochiamo un calo della popolazione ma non solo ci sono anche esperienze purtroppo drammatiche accadute nel nostro paese anche di recente qualche anno fa vi ricorderete in Calabria dove per errori proprio per errori di impostazione di giornata non si tiene conto di un fiume che magari poi fa una piena esattamente sono tutte cose che vanno valutate partire con un temporale certo o già in atto magari a monte non ti sta bagnando ma il temporale in atto può essere pericoloso specialmente quando si frequentano strette gole e il pesarese è un po' la patria dei canyon delle gole e quindi bisogna fare attenzione la meteorologia è un'altra cosa di cui tener conto poi l'esperienza ovviamente aiuta ma non possiamo aspettare l'esperienza per non sbagliare Aldo come cooperativa La Macina Terre Alte voi collaborate anche con i centri di educazione ambientale sì noi siamo dei centri di educazione ambientale ne gestiamo diversi nelle Marche ce ne sono alcune decine ce ne erano tanti dopo c'è stata una inevitabile moria dovuta alla penuria di finanziamenti pubblici e poi anche da ultimo all'epidemia i finanziamenti pubblici erano necessari sono necessari perché comunque si svolge un'attività che non è un'attività mercantile è comunque un servizio che si dà alla popolazione appunto quello della educazione ambientale questi centri sono sparsi in tutto il territorio regionale noi ne gestiamo uno anche in Toscana nelle foreste casentinesi nel parco nazionale e appunto hanno questo ruolo che attualmente praticamente si regge sul mercato ma è una cosa impropria nel senso che appunto si va ben oltre quello che dovrebbe essere una funzione di carattere turistico questo è un servizio di carattere prevalentemente culturale dal quale più di tanto non si può sopravvivere sul mercato infatti noi abbiamo diciamo abbiamo aggregato ai centri di educazione ambientale una rete una catena di strutture recettive che sono case per vacanze alberghi rifugi montani collocati qua e là nelle riserve nei parchi nazionali eccetera e quindi per sapere per esempio dove sono facciamo riferimento a voi sì esattamente basta guardare sul sito della macina e questo ci consente di svolgere l'attività culturale che in qualche modo è di sostegno all'attività ricettiva e viceversa ok quindi abbiamo chiuso questo giro questo davvero interessantissimo dialogo con con Roberta Chiara e Aldo Loris lo chiamo sempre con questi due nomi perché oltretutto mi hai fatto vedere delle cose alle quali non pensavo o alle quali ho pensato grazie a quello che tu mi hai detto e immagino che questo sia un pochino l'obiettivo di quello che volevamo fare soprattutto anche proprio stimolare chi poi fosse realmente interessato a frequentare questo corso a farlo un saluto a Roberta Giardini responsabile direzione generale coordinamento del centro di formazione e orientamento della cooperativa Labirinto grazie a voi grazie a voi un saluto a Chiara Bujarelli della cooperativa La Macina Terre Alte che è una messa in pratica poi in realtà dei corsi organizzati dalla cooperativa grazie è un saluto è un saluto a Daldo Loris Cucchiarini che è amministratore della cooperativa La Macina Terre Alte che così bene ci ha descritto quello che effettivamente potrà avvenire in questo corso il corso lo ribadiamo è il corso per guida naturalistica o ambientale escursionistica è un corso interessantissimo i contenuti sono tanti e soprattutto c'è la possibilità davvero di acquisire delle capacità che al di là di quello che è l'aspetto prettamente tecnico legato all'ambiente alla natura sicuramente possono rendere le persone migliori quindi chi fosse interessato a partecipare a questo corso sa a chi riferirsi la cooperativa Labirinto il suo sito internet il centro di formazione quindi un'opportunità incredibile per accoppiare la possibilità di uno sviluppo professionale ma anche di uno sviluppo personale di uno sviluppo Grazie a tutti.